Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della locale procura distrettuale della Repubblica nei confronti di un soggetto operante nel versante tirrenico della provincia di Messina, ritenuto socialmente pericoloso. Il provvedimento esteso anche ai familiari del soggetto destinatario delle investigazioni economico-patrimoniali, originario di Tortorici, ma attivo nel comprensorio di Montalbano e Licona, in provincia di Messina, scaturisce dalla puntuale ricostruzione del profilo soggettivo di pericolosità sviluppata attraverso le risultanze delle molteplici iniziative investigative avviate nel tempo dalla Procura Peloritana e dalla Guardia di Finanza. In particolare sono state valorizzate le evidenze giudiziarie emerse nell'indagine Terra Mia risalente al 2018 e soprattutto le risultanze dell'operazione Nebrodi, significativa attività investigativa che nel gennaio del 2020 ha consentito di delineare i contorni di una complessa organizzazione criminale di matrice mafiosa in parte giudiziamente ritenuta a ottobre 2022 di matrice mafiosa e riferibile a due articolazioni del gruppo dei Tortoriciani, quella dei Batanesi e quella del Bontempo Scavo coinvolte nella Commissione di Plurime Attività Illecite del territorio dei Nebrodi. Nel dettaglio le investigazioni hanno documentato la costante operatività di tali compagini criminali nella provincia peloritana, verificando una specifica e peculiare propensione tra l'altro alla Commissione di illeciti nel redditizio settore delle truffe comunitarie in agricoltura per l'ottenimento e indebito di fondi comunitari a valere sulla politica agricola comune. L'uomo, come sintetizzato nel percorso motivazionale della sentenza di primo grado del Tribunale di Patti nell'ambito dell'operazione Nebrodi, risultava un soggetto ai strettissimi rapporti con i Batanesi, al punto da rappresentare la famiglia in occasione di summit organizzati con gli esponenti della criminalità organizzata catanese. In tale contesto era emerso come si occupasse di dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, nonché gestire le estorsioni e gli appezzamenti di terreno da utilizzare per il compimento delle truffe in danno della GEA. Gli approfondimenti economico-patrimoniali condotti dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Messina, hanno quindi permesso sul fonte patrimoniale di disvelare la disponibilità di beni in capo al soggetto investigato e relativi familiari in misura sproporzionata rispetto ai redditi leciti dichiarati, dimostrando la stretta correlazione temporale tra i comportamenti antisociali documentati e l'illecito arricchimento accertato. In definitiva, la misura di prevenzione patrimoniale ha ad oggetto complessivamente tre compendi aziendali comprensivi dei relativi beni patrimoniali attivi nel settore agricolo, sei terreni, due rapporti finanziari nella disponibilità diretta o indiretta o comunque riconducibili all'uomo, per un valore complessivo di stima pari circa un milione di euro.